E spostiamoci adesso a Pavia dove è stato ricordato nel suo diciassettesimo anniversario il servo di Dio Don Enzo Boschetti, fondatore della Casa del Giovane. Pavia ricorda nel suo diciassettesimo anniversario il servo di Dio Don Enzo Boschetti, fondatore della Casa del Giovane, realtà che oggi incarna l'eredità lasciata da lui, offrendo risposte concrete al disagio giovanile e alla povertà. Don Enzo è sacerdote della diocesi di Pavia, la cui vicenda vocazionale però ha radici nell'ordine carmelitano, essendo lui entrato nel Carmelo nel 1949 e poi per una scelta di Dio che lui ha corrisposto per diventare sacerdote ne uscì nel 1956 per poi diventare sacerdote nel 62 diocesano qua a Pavia. Da lì l'esperienza di Don Enzo ha preso tutta una tensione, una vicenda che si è realizzata e concretizzata poi nel 1968 con l'accoglienza dei primi giovani in disagio e man mano sviluppandosi con quella che è stata poi la Casa del Giovane, la cui realtà adesso possiamo cogliere in tutta la sua ampiezza e la sua complessità. Quindi possiamo dire che è stato un uomo che ha ascoltato Dio e si è fidato di Dio e a partire da quello si è dedicato, diciamo, alla causa del Vangelo, scoprendo nei poveri e nell'accoglienza dei giovani, nella carità, la pienezza, la sintesi di questo messaggio e di riflesso anche la novità, l'attualità, la profeticità del Vangelo e quindi una risposta ai tempi di oggi, alle necessità della Chiesa di oggi e dei giovani, delle persone, della vita. Era il 15 febbraio 2006 quando il Vescovo di Pavia, Monsignor Giovanni Giudici, ha aperto la fase diocesana del processo di beatificazione di Don Enzo Boschetti che si è conclusa il 15 febbraio 2008 e ora prosegue presso la Congregazione Vaticana per le Cause dei Santi. La causa di beatificazione ha concluso la fase diocesana nel 2008, ora è al vaglio della Congregazione per le Cause dei Santi e in questi giorni abbiamo avuto la segnalazione per adesso solo verbale ma tra poco anche in maniera documentata, officiale, dell'approvazione, diciamo, della validazione dei documenti che abbiamo presentato come processo. Quindi è stata vagliata tutta la documentazione, erano circa 4.000 pagine di documenti, di testimonianze, di tutti i dati e le valutazioni anche teologiche, storiche, su Don Enzo e a questo punto, essendo validi i documenti, inizierà invece la fase di studio e di verifica da parte appunto della Congregazione delle Cause dei Santi. E la Casa del Giovane si prepara a celebrare l'anno prossimo il quarantesimo di fondazione. In questi quarant'anni si è sviluppato un insieme di dimensioni che potremmo definire sicuramente poliedriche, varie opinte, su vari livelli che coinvolgono fondamentalmente l'esperienza della vita della Chiesa, della società, della città, delle famiglie, dei giovani, di chi dedica la vita ai poveri ma anche di chi fa volontariato, di chi professionalmente si orienta a un servizio verso gli altri con una certa attenzione alle persone, con una carità che diventa anche competenza, diventa anche qualità. Sicuramente è una comunità di vita dove le persone vivono, dove alcuni vivono per scelta, per vocazione definitivamente e si pongono a servizio diventando famiglia, diventando casa per gli altri, per chi invece ha difficoltà. È una realtà di servizio e quindi come tale si innesta all'interno di una dimensione che è quella sociale con tutte le sue articolazioni, quindi con tutto il lavoro in rete, il rapporto con i servizi, le istituzioni che si occupano del benessere, della società, dei cittadini. È una realtà per certi versi con 40 anni di storia, quindi non proprio giovanissima, per altri versi ancora in fase di crescita, perché da un punto di vista sociale si è strutturata, si è articolata, ha raggiunto anche una certa esperienza, una certa competenza. Da un punto di vista vocazionale, che è appunto la sua anima, la sua radice, sta crescendo, si sta interrogando su quello che Dio ha compiuto con Donenzo e che ha lasciato in eredità a noi e ci stiamo così, come si può dire, orientando a cercare sempre meglio una sintesi più forte, più vera, più integra tra il Vangelo e tutto quello che oggi è il contesto sociale, la vita, la situazione delle persone, dei poveri, dei giovani che incontriamo, per far sì che possa continuare a essere non soltanto una bella realtà che aiuta gli altri, ma una realtà che propone un modo di essere e di vivere, che vale la pena di essere vissuto quello del Vangelo.